Ciao a tutti ragazzi, io sono SibriDX in questo nuovo video e sono qui tornato su Elthor Void in compagnia di nessuno Wow che bello Ha richiesto amicizie, ok, accettiamo richieste amicizie come al solito Eeeh, oggi siamo qui tornati da molto che non registro, è vero, è vero, è vero Dovevo fare elterraplanes da soli? Eeeh, mamma mia, mamma mia Vediamo un po' più che altro, volevo vedere quanto costano le cavalcature, le mount Madonna, non c'ho proprio soldi Quanto costano le mount in void, no? Se stanno più che altro qua sopra Quindi scriviamo mount, non scrive mount? No, non dobbiamo scrivere mount, come si scrive? Eeeh, accessori? No, che cazzo è? Ma le vendono almeno, non le vendono? Boh, non lo so, sono stupido io Facciamo altre planes, facciamo direttamente, eh Andiamo a spaccare tutto Con cut my void che è il nostro pet piccolo piccolo Che è carinissimo Che ringrazio ancora per il regalo Fai il naso di Ignis Ok, andiamo Andiamo E ora dobbiamo fare tutto da solo Quindi ci verrà tipo difficilissimo Che io odio sto dungeon Io odio letteralmente Allora, io amo la soundtrack di sto dungeon Non so se si sente Oh, si blocca! Oh, ma che cazzo fai? Ok Ok Amo la soundtrack di questo dungeon Però Non sopporto Come si dice? Non sopporto perché è fastidioso assai, eh Aspetta che devo spaccare un po' qualcosa qua Qual è l'obiettivo della quest? Ah, Ignis è leviatano Levitano, magari si chiama lui Ma che è il nome Ogni volta Ricordarsi Ora mi trasformo pure Ci faccio il culo Lì ci faccio Guarda Ti faccio il culo Ti faccio! Ti faccio malissimo E mi trasformo Divento grande quanto te Opla Sono più grandi di te Dai, ti prego E muore E' morto E' morto Vai, andiamo avanti No, è rimasto qualche Ah, no, no, no Pensavo, pensavo Ragazzi, pensavo Lag Lagone Proprio Intanto mi ha fatto perdere tempo Non si muove Wow, che bello Mi distrutto tutto Trasformati Trasformati a due Opla Secondo livello, guarda Cioè, no, è sempre lo stesso Però, in senso, comunque Ha ricaricato la 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 crash La crash Ma guarda Opla No, volevo fare qualcosa di epico Non ce l'ho fatta E faccio schifo Aspetta Opla Uno Due Ah, no, sa Uno e due è un cazzo Aspetta No, mi stanno uccidendo E' morto E' morto di tutti Che fedacine Guarda, cioè Ha ucciso tutto Wow Sono forte Sono forte abbastanza adesso Per voi Potete vedermi anche voi Come una persona forte In questo gioco Dopo tutto questo No, non ancora Ok, va bene Andiamo avanti Spacchiamo un po' qua Là Oh Ed è molto sì Che non registro Ancora cercando comunque Un altro gioco Il quale registrare Non so che cosa portarvi Altrimenti Ora mi divento Pure gigante Perché sono forte Sono bellissimo Ah, sono faboloso Quando mi trasformo Bellino Ecco Abbiamo squasciato Un pochettino qua Ci sono rimasti Cinque mostri Ah, eh sì Mi sono rimasti Cinque veramente E dovranno essere Quelli qua sopra Oh Mamma mia Sono morti? No C'è ancora la tana Ok Ora è morto tutto Vabbè, sì Non ho prendo il polletto Perché il polletto Dove lo metto Dove lo metto Non si sa Non era così Non era così Non ho più la skill Quella dei punti Per accogliere i punti No, non ce l'ho più L'ho togliuta Perché Ma se Non ti distruggiamo Sto stronzetto Senti Vuoi fare il bulletto A qualche altra parte Capito? Mi sta facendo male Però Che cazzo sto bastardo E ora diventare Ciccione anche io No Ah Ah Ho preso una parte All'altra Mi sta sbonnando Ha rotto Mamma mia Vai Carica 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 Madonna Mi sta battendo Mi ricarico Palle Mi tira pugno ovunque Rotto Oh Che schifo è Usiamo la mela Usiamo la mela Ok Già la mela è diversa È qualcosa di meglio Non so A chi cazzo Ho colpito Ice wave Ok Ok Andiamo avanti È morto È morto Cioè Cioè Ora è tipo Vuole tipo Fare una cosa Su el Aspetta che mi vado a prendere La cosa del gigante Perché voglio sentire forte E grande anch'io Grande e grosso Perché sono un bulletto Anch'io Dai Ma questi mi bullizzano Questi Volevo tipo Fare Se sono Scissi Naturalmente a farlo Mi devo informare meglio Ma sarebbe anche inutile Quindi inutile Volevo fare tipo Una Non si può dire Una live Una diretta Mentre giocavo Questo gioco Così Facciamo un qualche dungeon E In un orario In un giorno prestabilito Più che altro Però Sarebbe un bel problemino In generale Vabbè A parte Per farle dirette Non è un problema Vediamo come cacchio fare Cioè Avevo questa intenzione Però Alla fine Se non viene seguito Se vengo seguito poco E' inutile pure Che lo faccio Cioè Volevo farti capire Invece di fare 20 minuti puntate Facevo un'oretta Così Facevo qualche dungeon In più Alla fine Facevo 2-3 dungeon In più E Ho sbagliato Porca puttana Ok Faccio qualche dungeon In più E Però mi divertivo Un pochettino Di più E E niente E questo è tutto Mi giocavamo un pochettino Qua e là Con le dirette Con le direct Opla Aspetta che Vero di uccidere qua Ti uccide dal suo stronzo No no Non voglio fare questa skill Voglio fare questa skill Bastardo Bastardo Lo devo fare No sei un bastardone Sei un bastardone Guarda Guarda Tu ti uccido così Sei morto Visto stronzo Hai visto Eh Hai visto che ti ho ucciso Upla E dai Madonna Ste cose Quanto sono alte Ste skill Sono altissime Ok Eccolo qua Brr 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 E si fa danno ovunque Guarda come li uccido a questi Guarda come li uccido Guarda Guarda Ah No Non mi trasformo più Voglio andare così Senza parole Però Vai Abbiamo vinto Alter a play Ah Finalmente Uno su uno Yeah Ce l'abbiamo fatta Livello 48 Quando cazzo mai saliamo di livello qua ancora Non abbiamo capito Quando salire Non ci è stato ancora detto Ora facciamo semmai Qui clear Mi sa che dobbiamo rifare lo stesso dungeon Per rottura di cazzo Qui non voglio rifarlo Allora facciamo qua Cos'è Alter Advanced Non mi fa schifo Cioè è più forte quello che c'ho io Ho sbaglio Comunque siamo a livello 88 Di livello item Non è il massimo Oh Nasroth Fungi Bella questa Qua c'è Ci sta Raved Come avversario finale Però tutto Tutto Diventato un cyborg Mostruso Completa un dungeon Su questo livello Ok Facciamo Non me ne frega un cazzo del video Andiamo avanti Guarda guarda Opla No Non ho fatto il teletrasporto Perché Ma l'ha fatto Non me ne sono accorto Ehi ma perché si blocca Quando fa così Che fastidio Quando si blocca Do clic Che arriva ad un certo punto Non fa più Dovevo premere x Non parola Premere x sempre Quando si Vado per fare Ecco vedi Premo x E salto Così almeno Mi libero Da questo break Qua No Skill Is not viable Dai andiamo avanti Continuiamo La nostra sfida Mi sa che comunque La skill dei punti Ce la possiamo pure mettere Quella che raccogliamo i punti Oh Madonna Mi sta per schiacciare Sto bastardo Oh E muoiono tutti Con uno sparo No Ancora no Ora è morto Volevo colpirlo Tututututum Non faccio nulla Non faccio Bene così No Ho invertito le skill Ho invertito Cosa ho fatto Che skill ho fatto Aspetta Invertito lo slot Così viene tutto minion Sono diventato Opla Guarda Che figo Cioè Roba che Non si vede tutti i giorni Aspetta Quello l'ammazzo 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 È morto Guarda Guarda No no Non mi schiacciano Non mi hanno schiacciato Strano Assurdo Facciamo questa Ecco La doppia V Che non l'utilizzavo proprio No Ci abbiamo una crescita Dobbiamo caricare No Che palle Che palle Opla Comunque ragazzi Rispondo ancora ulteriormente Io per fare il video Con qualcuno Ci sono Spesso Spesso Perché come avete notato Comunque qualcuno di voi Mi ha scritto Eh io comunque Sono sempre impegnato Anche ultimamente Perché Ve lo dico Sto cercando lavoro Sto cercando Perché non ne ho adesso E quindi Sono abbastanza impegnato Però Se mi strugge un po' Tutti questi qua Ok Qua intanto vanno le persone online Ma fanculo Ho strontato online Quindi Se volete registrare Quando posso Ripeto Oddio mi si bugga tutto Ok Quando posso Ripeto Possiamo Perché qualcuno mi scrive Ci sei Ci sei adesso Ci sei adesso Allora io entro Quasi sempre No quasi sempre Entro solo Quando devo registrare In questo gioco Non entro In eventuali casi In altri casi Quindi questo è già il problema Poi Cioè se devo farmi Una partitella Così non entro Perché C'ho altro da fare Ma non per voi Però È questo Il problema Principale Ma è proprio Figa sta skill Quindi quando io Entro a registrare Comunque Semmai Facciamo così Ora perché sono stato Un po' stronzetto Anch'io Non sono stronzetto Comunque Negligenza E ignoranza Se mai quando devo Entrare a registrare Perché poi io Mi sono deciso Dieci minuti fa Ho detto Vabbè dai Cominciò a registrare Un pochettino Cioè non è che È una cosa Programmata la mia Eventualmente Scrivo Sulla pagina mia Facebook Sto entrando Per registrare Su Edsword Se qualcuno c'è Mi venisse Fa compagnia Non lo so Vediamo un po' Comunque scrivo Siamo in dieci minuti Prima di Loggare A registrare Lo scrivo E scrivo Vasto Per registrare Chi c'è su Void E Se qualcosa Con la scusa Ci faccio una partitella Insieme E Sì perché comunque Lasciando stare il tutto Una mano servirebbe Anche Ora ho arrivato A certi livelli Vedi Mi viene pure difficile Farli da solo I dungeon Quindi Una mano sarebbe Più che utile Non utile Più che utile Che dico Che dico Più che utile Mamma mia Aspetta che mi uccida Sto stronzone Guarda guarda No ho sbagliato Ah ho sbagliato Ho sbagliato No i bambini stanno adesso I bambini piccolini Eccoli qua I corvini Guardali Guardali I baby corvo Bastardi Pezzi di merda Mi state Mi state ammazzando Mi state ammazzando tutto Ti spacco Ti spacco Io Io non ci sto dentro Che cazzo fai Non riesco a ucciderli Ho bisogno per forza Di una mount Di una cavalcatura Come cazzo Quando ho Devo trovarle Devo trovarle per forza Qualche evento Qualcosa Per comprarle Devo trovare Una cavalcatura Per forza Perché se no È impossibile Aspetto un attimo Che mi sono bloccato Che ho chiuso la finestra Quindi Non ho visto neanche Quello che stavo facendo Ehm No bastardo Mi ha fatto la maganu Come si chiamava quella Skill Che non mi connex Stancura No Ho sbagliato Sbagliato skill Dicevo Quindi Devo per forza Prendermi Perché se no È fastidioso Ogni volta Combattere così È vero Perché per nabbi La cavalcatura È vero È vero Però È sempre bella Così Avercela Vieni qua Vieni qua Crow rider Così si chiama Bene Così ti vai chiamare Stronzetto Vai No Oh Ma ha fatto Come si chiama quella Ecco Attacco poteroso Si chiama cosmo Ma la sono ricordata Attacco poteroso Bella Oh Ci sediamo pure Ci sediamo No Andiamo proprio fluttuando Bene ragazzi Per questo video è tutto Grazie per le visualizzazioni Spero che il video vi sia piaciuto Commentate se il video vi è piaciuto Mi raccomando Iscrivetevi al canale E mamma mia Che casino Oh mamma mia Oh E ciao a tutti ragazzi Ciao 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 Ciao